roba da matti guarda cosa dobbiamo inventarci per memorizzare i segnalamenti diurni i segnalamenti non fanno riferimento a nessuna lunghezza dell'unità siamo di giorno quindi la vediamo i segnalamenti diurni sono costituiti da forme geometriche palloni rombi coni cilindri di colore nero perché il nero è il colore che si vede meglio di giorno per aiutare a memorizzare questo tipo di segnalamenti confrontiamoli con i segnali notturni relativi segnale notturno di nave all'ancora in questo caso inferiore a 50 metri sostituiamo alla luce bianca visibile per 360 gradi un pallone nero parlando di pallone a me viene subito in mente un campo da calcio e prima del fischio di inizio della partita troviamo questo pallone al centro del campo e questo pallone è fermo non si sta muovendo se il pallone è fermo vuol dire che anche l'unità a cui facciamo riferimento è ferma ovvero sia stiamo parlando di una nave all'ancora di qualsiasi metraggio per i segnalamenti che vedremo a seguito al posto della luce rossa posizioniamo un pallone nero un non governo di notte viene rappresentato da due fanali rossi al posto di ogni fanale rosso mettiamo un pallone nero di conseguenza due fanali rossi due palloni neri quindi una nave che non governa di giorno viene rappresentata con due palloni neri una manovrabilità limitata di notte viene segnalata con un fanale rosso un fanale bianco e un fanale rosso al posto dei fanali rossi sostituiamo dei palloni neri al posto del fanale bianco sostituiamo un rombo nero una manovrabilità limitata di giorno sarà quindi segnalata con pallone rombo pallone le draghe e le navi impegnate in operazioni subacquee sono identificate di notte come manovrabilità limitata rosso bianco rosso più da due fanali rossi che indicano lato struito e da due fanali verdi che indicano lato libero al posto dei fanali rossi sostituiamo dei palloni al posto del fanale bianco e dei fanali verdi sostituiamo dei rombi una nave incagliata di notte è rappresentata da un fanale bianco inteso come nave all'ancora più due fanali rossi intesi come non governo quindi segnale di nave all'ancora diurno un pallone più segnale di nave che non governa due palloni il risultato totale fa tre palloni una nave condizionata dal proprio pescaggio o dalla propria immersione di notte è identificata con tre fanali rossi non si può sostituire ai tre fanali rossi tre palloni neri perché tre palloni neri identificano già una nave incagliata dovremo quindi aggiungere un quarto pallone ma al posto di mettere questa sfilza di palloni in verticale li sostituiamo con un cilindro un dragamine di notte è identificato con tre fanali verdi disposti a triangolo di giorno questi tre fanali verdi vengono sostituiti da tre palloni neri disposti nella stessa posizione dei tre fanali un motopeschereccio astrascico di notte viene segnalato con un fanale verde e un fanale bianco ricordiamo che conosciamo due tipi di motopeschereccio motopeschereccio astrascico quindi con le reti a fondo moto peschereccio non astrascico quindi con le reti a galla quindi possiamo dire che rispetto a una linea di galleggiamento un motopeschereccio generalizzato può avere le reti a fondo o avere le reti a galla rappresentiamo quindi per primo un motopeschereccio meno pericoloso alla navigazione ovvero sia il peschereccio astrascico e lo rappresentiamo con due coni con il vertice al centro un peschereccio non astrascico di notte segnalato con un fanale rosso e uno bianco il peschereccio non astrascico oltre a presentare il segnalamento di peschereccio presenta un cono con la punta rivolta verso l'alto dal lato dove è calata la rete un peschereccio inferiore a 20 metri per identificarsi presenta un attrezzo da pesca una nave pilota di notte è identificata con un fanale bianco e uno rosso parlando di piloti pensiamo a delle gare automobilistiche dove è presente per la partenza e per l'arrivo una bandiera a scacchi anche per la nautica parlando di piloti nave pilota sarà quindi presente una bandiera che avrà gli stessi colori dei segnalamenti notturni bianca e rossa una barca vela di notte viene identificata con dei segnali facoltativi verde rosso visibili per 360 gradi se la barca vela di notte viaggia anche a motore diventa semplicemente una nave a motore e quindi sarà identificata con una luce bianca visibile per 360 gradi di giorno questo fanale bianco viene sostituito da un cono con la punta rivolta verso il basso di colore nero questa punta rivolta verso il basso indica che sta utilizzando qualcosa posto verso il basso ovvero sia il motore un rimorchiatore di notte viene identificato con due tre quattro fanali bianchi dipende dalla lunghezza del rimorchiatore e dalla lunghezza del traino se il traino è inferiore a 200 metri può essere quindi anche un metro questo traino di giorno lo vediamo ma se il traino è superiore a 200 metri questo deve essere segnalato da un rombo stiamo parlando di una lunghezza quindi se la vogliamo rappresentare a disegno mettiamo su questa distanza due frecce ora se queste due frecce le uniamo si forma un rombo cose più insensate non si potevano dire e quindi non 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 non